Prima e dopo Roma-Inter, quindi sono arrivate dichiarazioni importanti per quanto riguarda il prossimo futuro dell'Inter in termini di mercato e di conseguenza, parlando di mercato, in termini anche di aspettative per questa seconda parte di questa stagione in vista ovviamente della volata scudetto. Prima della gara ha parlato quindi l'amministratore delegato Marotta che tra l'altro era stato anche invocato dallo stesso Conte quando nella conferenza stampa alla vigilia della gara dell'Olimpico era arrivata una domanda sulle questioni societarie che stanno facendo tanto discutere, Conte ha risposto dicendo che dovrebbero parlare altri e di fatto ha invocato quindi questo chiarimento di Marotta. Poi sul tema mercato, quindi oltre ad averne parlato Marotta ne ha parlato anche lo stesso Conte, tra poco vi mostro le sue dichiarazioni. Prima di leggervelo però voglio ringraziare Francesco Di Bella che è uno dei nostri sostenitori, Francesco grazie anche al tuo abbonamento quindi hai permesso di registrare, di creare questa clip, il tuo sostegno per noi è veramente molto molto importante per contribuire sempre più alla crescita del nostro progetto. Chi vuole sostenerci come ha fatto Francesco può andare su patreon.com e slash passione inter trovate il link ovviamente anche in descrizione oppure potete fare come ha fatto lo stesso Francesco abbonandovi molto semplicemente con pochi clic al nostro canale YouTube trovate il link il pulsantino qui sotto il vostro sostegno per noi è molto molto importante. Passiamo però adesso al tema della clip vi leggo le parole di Beppe Marotta l'amministratore delegato dell'Inter che ha risposto quindi nel pregara vi dico tutto tranquillizzo i tifosi la proprietà è solida sul mercato stiamo valutando di confermare tutti. Vi voglio leggere quindi in questa clip parliamo più che altro di mercato vi voglio leggere la parte riguardante proprio il mercato il mercato parte da necessità che dobbiamo far diventare virtù il fatto di non poter fare investimenti ci porta anche al fatto di rivalutare questa squadra siccome sono operazioni fattibili a certe condizioni non ce ne sono stiamo valutando una conferma totale di questo gruppo. Queste sono le parole di Beppe Marotta parole importanti alle parole di Marotta nel post partita soprattutto si sono aggiunte anche quelle di Antonio Conte Conte che dice andiamo a recuperare le sue dichiarazioni sul tema mercato ecco qua questa è la frase centrale ovviamente il verbo volere non esiste da agosto mi è stata detta quella che era la linea del club. Adesso è molto chiara la situazione leggo che io voglio questo o quest'altro lavoro con i giocatori che ho e sono contento siamo questi con pregi e difetti andremo a combattere con questi uomini non ci riguarda il mercato almeno così ci è stato detto io non ho chiesto nessuno. Sottolineo qui un passaggio è positivo questo nel senso che il mister dice vado a lottare con quelli che ho a disposizione andiamo a fare la guerra questo mi è passato. Sono parole importanti come dicevo perché di fatto cambia la prospettiva delle prossime tre settimane di mercato in cui di fatto stando alle parole dei protagonisti non ci possiamo e non ci dobbiamo aspettare nulla di fatto. Questo è il messaggio che fanno passare Marotta e Conte di un Inter che andrà avanti con tutti i giocatori che sono in rosa e hanno specificato loro tutti i giocatori che stanno in rosa. È un cambio di prospettiva perché fino a qui si era parlato sempre di un mercato a saldo zero ovvero che le entrate sarebbero dovute essere minori o al massimo uguali alle uscite. Ci aspettavamo quindi fino ad ora delle cessioni la prima arrivata con Naringolan anche se in prestito c'è un piccolo risparmio e poi ce ne aspettavamo altre per poi aspettarci degli ingressi con degli arrivi più funzionali al progetto Inter. Ora invece c'è un ulteriore chiarimento in cui con queste parole di fatto si dice che si sta pensando di confermare tutti e non prendere nessuno. Questa è la nuova linea che viene annunciata ufficialmente. Dichiarazioni che inevitabilmente lasciano un po' spiazzati secondo me perché consideriamo che quindi in questo tutti si presuppone ovviamente anche la conferma di Pinamonti e soprattutto la conferma di Ericsson che oltre ad essere un po' fuori dai piani di mister Antonio Conte mi sembra abbastanza evidente e si è aggiunta in queste ultime ore anche quella grana con la gente che non riguarda direttamente il rapporto Conte-Ericsson diciamo però riguarda sempre la sfera Ericsson con l'Inter. Comunque Marotta ovviamente ha già specificato che non è un problema particolare sarà risolto ovviamente però si è aggiunto questo motivo di frizione che benissimo non fa. La mia opinione dovesse essere realmente così ovvero confermati tutti non arriva nessuno a Conte spetta innanzitutto il grosso compito e qui sarà una chiamata alla responsabilità dell'allenatore importante di rilanciare innanzitutto i suoi fedelissimi che lo stanno un po' tradendo su tutti io sottolineo il criticatissimo Arturo Vidal che io ripeto cerco sempre di difenderlo lo difendo io cerco di difendere tutti e anche Arturo Vidal perché innanzitutto dal livello di prestazioni so che mi attirerò delle critiche è in crescita secondo me e sono convinto che sarà importante in questa seconda parte di stagione però ecco nei momenti decisivi è fuori da ogni dubbio che quando ci aspettavamo che Vidal facesse la differenza in positivo in realtà l'ha fatta in negativo per ora quindi non ha fatto quel qualcosa in più che ci aspettavamo poi dovrà necessariamente oltre che ritrovare Vidal integrare Pinamonti perché un altro attaccante a quest'Inter serve e se non lo prendi è Pinamonti che resta in squadra lo stesso vale anche e soprattutto per Eriksen per mille motivi non che all'Inter ecco stiano mancando armi per andare in gol quindi anzi miglior attacco occasioni da gol come diciamo sempre create a grappolo che però poi non vengono concretizzate questo è un altro discorso però anche a Roma non solo a Roma ma anche a Roma è stato evidente come sia necessario secondo me integrare giocatori che possono anche gestire il pallone e abbassare o alzare i ritmi di gioco quando serve Eriksen come Sensi penso possano farlo almeno a gara in corso se proprio Conte non li vede come titolari quindi per questo motivo sarà importantissimo dovesse restare reintegrare e sfruttare al meglio anche Eriksen inoltre tra i vari motivi per cui va integrato anche Eriksen ci aggiungo che vista la difficoltà economica così complessa visto che stiamo dicendo tanto che bisogna prestare attenzione ai conti se già hai un Sanchez panchinaro a 7 milioni di ingaggio all'anno aggiungere un altro panchinaro come Eriksen ancora a 7 milioni e passa all'anno sarebbe davvero uno spreco clamoroso per non dire una vergogna sarebbe comunque diciamo detto questo per me un peccato davvero ritrovarsi di nuovo a gennaio con la possibilità di puntellare la rosa con un paio di dettagli anche low cost ma più funzionali che ti possono far fare il salto di qualità e per l'ennesima volta non farlo però ci adeguiamo cioè tante volte ci siamo ritrovati a gennaio a dire vai che con un paio di acquisti un rinforzino lì possiamo fare il salto di qualità anche per me quest'anno con un piccolo rinforzino si può fare molto molto bene sarebbe un peccato non farlo comunque per quello che mi riguarda continuo ad avere la sensazione che qualcosa succederà e mi sembrerebbe francamente strano ve lo dico sinceramente vedere confermati sia Pinamonti che Eriksen o in generale mi sembrerebbe strano vedere confermati tutti in blocco i giocatori della rosa e mi sembrerebbe anche strano che al posto di quelli che probabilmente partiranno almeno secondo me non arrivi almeno un altro giocatore se devo fare un nome visto che molti me lo chiedete la mia sensazione comunque il mio nome caldo in questo mercato in questo momento è il papu gomez tra l'altro a ore ci sarà un incontro tra papu gomez il suo agente e la dirigenza per decidere il futuro che molto probabilmente sarà lontano dall'atalanta ma non troppo lontano da bergamo attenzione a questo dettaglio importante tra l'altro per me papu gomez nell'inter farebbe molto molto bene anche se io sogno sempre un centravanti grosso fisico da aggiungere queste quindi sono un po le mie sensazioni sarebbe un peccato non fare mercato la società allenatore tutti i compatti sembrano anche sinceri diciamo così quando lo dicono dicendo che non arriverà nessuno che non ci sarà mercato immagino che dietro queste motivazioni oltre al fatto che non ci sono effettivamente soldi ci siano delle valutazioni anche legate alla trattativa in corso per la quota per il momento di minoranza della società nera azzurra che prevedono quindi che magari qualcosina a livello di mercato venga bloccato anche da questo però ecco qualcosina sinceramente io sotto sotto me lo aspetto e fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi fatemi sapere se secondo voi arriverà qualcuno soprattutto vi chiedo dove arriverà secondo voi l'inter se dovesse rimanere la stessa identica rosa di oggi con un pesino tra l'altro in più che si aggiunge visto che è vicino al recupero scrivetemi qui sotto nei commenti le vostre sensazioni vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube ovviamente a seguirci su tutte le piattaforme di podcasting come speaker spotify apple pot apple podcast ce la faccio e google podcast ringrazio nuovamente francesco di bella che il nostro sostenitore che ha contribuito grazie al suo abbonamento alla realizzazione di questa clip chi vuole sostenerci può farlo andando su patreon.com slash passion entra trovate anche il link in descrizione oppure abbonandovi al nostro canale youtube trovate il pulsantino qui sotto e il vostro sostegno per noi è davvero molto molto importante